Parla tanto di difesa comune, di esercito europeo, però bisognerebbe scavare un pochettino più nei dettagli quello che significa. Perché una difesa di una nazione, la difesa di una unità, è possibile quando c'è effettivamente un riconoscimento totale e soprattutto identitario e unitario di questa federazione. Se vogliamo fare un esempio, gli Stati Uniti d'America sono una federazione di stati, hanno un esercito unico, parlano un'unica lingua, hanno le stesse procedure che vadano dal Dakota fino al Texas e tutti rispondono alla stessa autorità centrale che comanda e che decide. Immaginatevi la stessa cosa in un'Unione Europea. Chi è che comanda? Chi decide? Chi prende gli ordini? Chi li dà? Chi decide che il reggimento in prima linea sia lituano piuttosto che ungherese, piuttosto che italiano? Chi decide poi chi invece fornirà solo la tecnologia o solo gli ascari che dovranno combattere in prima linea? Sono tutte questioni che sembrano quasi venute fuori da dettagli, ma sono questioni invece fondamentali, perché poi sarà questa difesa comune che deciderà chi dovrà andare a morire per i valori che rappresentano in sé per sé. Allora, ci sono vari modi per realizzare la difesa comune e io non direi che è l'esercito comune, perché l'esercito comune la vedo abbastanza difficile da realizzare. Ci possono essere intese, ci possono essere alleanze, ci possono essere coalizioni che si mettono d'accordo di volta in volta su come si deve cooperare. Ma l'interesse nazionale è quello che viene difeso ed è in base a quello che gli eserciti vengono istituiti, in quanto sono degli strumenti fondamentalmente che servono per la minaccia dell'uso della forza o l'uso della forza. A questo servono le forze armate, non servono a tante altre motivazioni. Per cui è sicuramente un concetto sul quale dobbiamo ragionare, ma che pone tantissimi interrogativi. E ritorno sul discorso che facevo prima, solamente delle nazioni che hanno una sovranità pronunciata e una difesa estremamente efficace possono esaltare queste capacità in una comunità di intenti quale dovrebbe essere la comunità europea. Non liquidando invece la difesa nazionale a beneficio di una difesa comunitaria che porrebbe tantissime altre problematiche che sono di difficile soluzione. La vedo in questa maniera e mi piace anche fare un parallelismo con il titolo del libro di Matteo Salvini, che mi piace tantissimo, Controvento. Anche perché si parla tantissimo negli ultimi periodi dei venti, venti che cambiano, tantissimi hanno usato questa metafora come sinonimo di una rivoluzione o comunque di un cambiamento di ideali. Però è verissimo, il vento è importante, ma credo che ancora più importante sia quello che regge il timone, che a prescindere dal cambiamento del vento mantiene la barra dritta e va diritto verso gli obiettivi che si è prefissato. E io credo che quello che ha annunciato e che ha appena detto il Ministro Salvini riguardo gli ideali e i principi verso i quali ci dobbiamo rivolgere rappresenti esattamente questo timoniere che a prescindere dalle situazioni che si vengono a creare in maniera giornaliera riesce a mantenere la bussola e a mantenere la direzione che rappresenta il bene comune per tutti noi.